aiuto guardate che roba sta sbattendo da tutte le parti mamma mia oh sta arrivando in un modo pazzesco c'è un'antenna la sua in cima che si muove in modo e anche ecco lì guardate guardate che roba ui 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 oi a ma proprio vien giù di brutto adesso guardate che roba mamma mia oh sta spaccando tutto